Buongiorno da Edo, è giovedì 7 dicembre e anche questa puntata che uscirà tra l'altro tardi sarà interamente dedicata all'AI, non è colpa mia, è il mercato che mi dà queste notizie quindi mettetevi comodi perché cercheremo di fare una cosa rilassante, rilassata, non troppo approfondita ma ci sono tante cose da dire quindi non so quanto lunga verrà, sarò bravo, non sarò bravo, non lo so iniziamo subito così, lo scopriamo Benvenuti nell'era Gemini, così si apre la landing page sul sito di DeepMind, Google DeepMind che presenta questo nuovo prodotto che si chiama appunto Gemini ed è una suite di modelli di naturalmente AI generativa che Google ha appena lanciato e si descrive come un prodotto multimodale cioè in grado di riconoscere e di produrre diversi tipi di formati da testi, immagini, audio, video e codice ma andiamo un po' a vedere bene, a parte appunto la landing page dove trovate tutti i vari videini trovate le interviste, insomma tutti i benchmark, le cose ma a noi ci interessa un po' di più la ciccia, di cosa si parla, che cos'è Gemini sul blog ufficiale si parte naturalmente con delle introduzioni, si parte con le dichiarazioni di Sundar Pichai il CEO di Alphabet e di Demis Hassabis che è il CEO e co-founder di DeepMind che appunto infine dice che Gemini è il modello più grande e più capace mai prodotto da DeepMind e da Google e arriva proprio in tre differenti versioni che sono Gemini Ultra che è quello più grosso, più potente, più capace poi c'è Gemini Pro che è una versione diciamo intermedia e adatta a un più ampio spettro di task e poi c'è Gemini Nano che invece è pensato per i device mobile soprattutto quindi per essere eseguito non tanto nei data center ma proprio sugli smartphone, sui portatini insomma dove serve una capacità di AI senza connessione a internet a questo punto il post va a parlare delle performance di Gemini partendo dalle performance di Gemini Ultra e ci dice che i benchmark sono stati eseguiti con un modello che si chiama MMLU cioè Massive Multitask Language Understanding che è praticamente una combinazione di vari tipi di materie diverse come matematica, fisica, storia, legge, medicina, etica insomma vedete tutti questi vari topic combinati per cercare di tirar fuori un punteggio in base alla qualità delle risposte e in questo Gemini Ultra va a battere GPT-4, non di tantissimo bisogna dire, insomma di un po' di punti in praticamente tutte le voci di questo benchmark insomma se vi interessa andatevi a vedere uno per uno tutti i vari punteggi c'è poi anche un punteggio dedicato proprio a questo task multimodale, questa feature multimodale capacità di generare e di gestire formati diversi ecco anche in questo Gemini va a vincere contro GPT-4 in praticamente tutte le categorie quindi qua naturalmente c'è un flexing delle capacità di Gemini da parte di Google si parla poi di come fa e di come potrà Gemini capire test, immagini, audio e più e per quanto riguarda invece noi poveri developer si parla anche un po' di coding cioè del fatto che Gemini è in grado di capire e di generare codice in vari linguaggi tra cui Python, Java, C++ e Go e naturalmente l'hanno anche provato con vari benchmark ed è straforte Google Gemini Ultra è super in grado di battere anche esseri umani in un sacco di task il sistema in cui Gemini sarà incluso come generazione di codice è AlphaCode che è un sistema che Google aveva già presentato anni fa ora arriva in una nuova versione, AlphaCode 2 che tra l'altro si è comportata benissimo nei programmi competitivi, nelle code challenge ecco rispetto ad altri avversari umani si parla anche di novità che riguardano l'hardware naturalmente Gemini è pensato anche per essere più scalabile e più efficiente ma insieme a questo vengono presentati anche dei nuovi processori, delle nuove TPU sapete che attualmente le TPU di Google sono V4 e V5e che è una versione più efficiente cioè che guarda un po' di più al risparmio energetico e questi sono quelli che attualmente vanno a dare la loro potenza e la loro energia ai servizi di Google che includono AI quindi da Search, Gmail, YouTube, Google Maps eccetera eccetera bene oggi Google presenta una nuova versione delle TPU che è la V5P che è proprio disegnata per essere la più potente di sempre poi magari guardiamo un pochino meglio i numeri di questa nuova CPU in conclusione di e-post Google ci tiene sempre a sottolineare il proprio commitment verso la sicurezza, la safety, la responsibility ecco tutti questi termini che girano attorno agli AI principles che Google aveva presentato sapete che spesso Google è stata un po' accusata di andare troppo lenta nell'innovazione, nella presentazione di nuovi servizi legati all'AI e Google si è sempre un po' difesa dicendo che certo noi andiamo piano ma perché prima di presentare delle novità di questo tipo al pubblico ci assicuriamo che siano completamente safe e quindi anche in questo post vanno a dare grossa enfasi a tutti i benchmark che hanno fatto per assicurarsi che intanto che i contenuti di tipo violento o tutti quelli che insomma possono includere potenziali rischi siano stati rimossi ma anche che con nuovi benchmark che riguardano prompt tossici ecco la toxicity e anche l'inclusivity e altre cose ecco tutti questi nuovi benchmark sono stati utilizzati e tutti i nuovi prodotti vengono lanciati soltanto quando rispondono a dei punteggi, dei requisiti sufficientemente alti quindi ecco questo è anche il motivo per cui c'è magari un po' più di lentezza rispetto agli altri perché si va a cercare di rispettare dei benchmark ancora più restrittivi ora la disponibilità invece di Gemini al mondo bene sappiate che già da oggi Bard utilizzerà una versione fine tuned di Gemini Pro inoltre Gemini sarà sui Pixel cioè il Pixel 8 Pro avrà a disposizione Gemini Nano proprio nel suo core, nel suo device e nei mesi seguenti, nei prossimi mesi Gemini sarà distribuito in tutti i vari prodotti di Google che hanno appunto l'AI nel loro core da Search a Chrome a Duets eccetera per quanto riguarda chi vuole sviluppare con Gemini dal 13 dicembre ci potrà accedere a Gemini Pro attraverso le Gemini API in Google AI Studio oppure in Google Cloud Vertex AI Google AI Studio è un sistema, un tool online per provare appunto le API di Gemini attraverso una API Key Gemini Ultra che è proprio la versione più super mega potente non è ancora pronta, non è ancora rilasciata stanno attualmente facendo ulteriori test per la sicurezza e l'affidabilità di Gemini Ultra quindi quando saranno completati questa sarà rilasciata e in particolare sarà rilasciata con un prodotto che si chiama Bard Advanced quindi una nuova versione di Bard che includerà tutte queste nuove caratteristiche di Gemini Ultra incluso la multimodalità quindi la capacità di capire e di generare contenuti in vari formati dal audio al video alle immagini almeno per quanto si dice al momento ancora non c'è quindi questo era l'annuncio di Google che riguarda Gemini Ultra sono andato poi a pescare un po' di commenti in giro quello naturalmente sempre migliore è quello di The Register che intanto riassume un po' tutto quello che ci siamo detti quindi per ricapitolare, anche sfrutto un po' per ricapitolare abbiamo tre modelli abbiamo Gemini Ultra, la versione stracazzuta e strapotente per i task più complessi che richiedono addirittura il ragionamento anche di tipo matematico e la capacità di processare tipi di dati differenti poi c'è Gemini Pro che è quello medio insomma che va bene un po' per tutti e poi c'è Gemini Nano che è quello per i mobile device qui abbiamo un ulteriore dettaglio il fatto che Gemini Nano è diviso in due modelli uno che è Nano 1, chiamato così che ha 1,8 miliardi di parametri e l'altro è Nano 2 che ha 3,25 miliardi di parametri nel numero di parametri ecco non abbiamo altre informazioni cioè non sappiamo sugli altri modelli, su Pro e Ultra quanti parametri ci sono insomma al momento Google non ce l'ha detto ma un passo importante di questo articolo che vi voglio segnalare è proprio la lotta Google versus OpenAI quindi il confronto naturale tra l'ultimo modello di Google e gli ultimi modelli invece di OpenAI quindi la risposta semplice in questa comparazione è, l'avevamo già vista dei numeri Gemini Pro sembra essere leggermente meglio di GPT 3.5 Gemini Ultra sembra essere leggermente meglio di GPT 4 ecco questo riguarda un po' i benchmark ma dice anche l'articolo attenzione perché certo comparato con gli altri modelli questo sembra ancora più potente e ci sembra che ci stiamo sempre di più avvicinando alla potenza infinita definitiva ma in realtà questa tecnologia hanno tutti gli stessi difetti cioè continua ad avere le stesse limitazioni degli altri large language model quindi spesso crea delle informazioni che sono fattualmente errate, sbagliate e questo processo è conosciuto come hallucination e non è ancora stato rimosso quindi questo modello ce l'ha ancora e quindi ha le stesse limitazioni che hanno gli altri e su The Registre troviamo qualche dettaglio in più anche su Alpha Code 2 in particolare dobbiamo andare a vedere se rischiamo di perdere il lavoro cioè quanto Alpha Code 2 è in grado di sostituire un programmatore umano ci sono qualche dettaglio in più rispetto ai test condotti con questi code challenge online il sito utilizzato è stato Code Forces quindi ci sono tutti i dati su come Google ha utilizzato Code Forces per fare delle challenge e comparare i risultati di Alpha Code 2 e quelli di programmatori umani ora qual è l'outcome di questi test che fondamentalmente il nostro lavoro è al sicuro per adesso perché pare che Alpha Code 2 utilizzi un approccio un po' brute force ecco cioè lui genera una marea di risposte possibili a una challenge o anche una code completion però diciamo a una challenge in questo caso di programmazione ora come fa per provare a risolvere questa challenge? lui genera un milione circa di possibili code sample e a questo punto applica un filter quindi toglie tutto quello che sembra essere un po' random o non risponde bene all'input iniziale, al requisito o non compila il codice ecco quindi toglie tutti questi codici che sono sbagliati proprio a una visione più superficiale e in questo modo toglie circa il 95% delle risposte da questo set ne rimangono circa 50.000 queste 50.000 vengono clasterizzate in gruppi e sono clasterizzate in base alla loro somiglianza ecco e a questo punto vengono classificate con dei punteggi che vengono dati sempre da un modello Gemini Pro in base alla loro accuratezza a questo punto i 10 migliori gruppi vengono presi i 10 migliori gruppi viene presa la prima risposta di ogni gruppo e viene mandata quella quindi già vedete che c'è anche una differenza con il povero essere umano che può mandare una sola risposta e deve essere giusta invece qua AlphaCode 2 può mandarne 10 risposte e di queste 10 basta che una sia giusta per passare la challenge quindi ecco qua anche i numeri dei benchmark come sono un pochino così inquinati da questo fatto naturalmente quindi questo sistema non è molto scalabile non è molto efficiente richiede ancora una quantità enorme di potenza per funzionare pensate a tutta la potenza che si vuole per generare un milione di risposte possibili e poi applicare ulteriori algoritmi per filtrarle per ordinarle, per classificarle eccetera eccetera quindi al momento questa roba qua non è molto efficiente il programmatore umano è ancora più efficiente dell'AI siamo un po' al sicuro ci spostiamo invece sul lato mobile dicevamo che Gemini Nano sarà presente nei Pixel 8 Pro vediamo in che formati, in che modo in due formati fondamentalmente uno è il Summarize quindi il sommario, la sintesi la possibilità di generare un sommario da una conversazione questa sarà disponibile nell'app Recorder che quindi registra le conversazioni le trascrive a questo punto attraverso Gemini Nano attraverso la funzione Summarize lui ti genererà un riassunto, una sintesi della conversazione tutto questo senza accedere all'internet perché la fa attraverso il Tensor Core del device quindi non ha bisogno di andare su un datacenter e l'altra feature è la Smart Reply nella Gboard quindi nella tastiera virtuale di Google per adesso questa è in Developer Preview è disponibile solamente su WhatsApp e cosa fa? ti genera una risposta possibile in una chat quindi se sei pigro e non hai voglia di scrivere la risposta nella chat WhatsApp con tua madre ecco la genera Gboard per te basandosi sul contesto della chat adesso è disponibile solo in WhatsApp sarà poi disponibile in nuove app a partire dall'anno prossimo e se siete sviluppatori Android o volete sapere un po' meglio come funziona diciamo sotto il cofano questo approccio all'AI dentro i device Android c'è un blog post sull'Android Developers Blog che vi spiega un pochino meglio come funziona e si parla di Android AI Core che è questo sistema che permette la comunicazione tra la app quindi tra la SDK di Android e l'acceleratore AI quindi la TPU questo Core contiene tre livelli uno è LoRa poi vediamo com'è uno è Gemini Nano e il terzo sono le feature di Security e che cos'è LoRa? LoRa significa Low Rank Adaptation non è da confondere con LoRa che si chiama allo stesso modo ma è la comunicazione wireless low latency tra device quella è un'altra cosa questo LoRa si scrive leggermente diverso perché l'ultima A è maiuscola quindi R e A maiuscole comunque è Low Rank Adaptation ve lo provo a spiegare molto molto in sintesi è un modo per fare il fine tuning di un modello cioè sapete che un modello ha milioni di parametri voi però avete un'app che deve essere contestualizzata molto più precisa molto in modo più verticale ecco attraverso questo pattern questo pattern LoRa voi date al modello un ulteriore set di parametri per raffinare per restringere ancora di più le risposte in modo che ogni app sia personalizzata ecco le risposte siano personalizzate in base a quello che l'app deve fare esistono altri pattern per fare fine tuning di modelli LoRa è uno di questi quindi AI Core utilizza LoRa per fornire alle app delle risposte più personalizzate quindi varie app potranno utilizzare lo stesso modello ma dare delle risposte diverse agli utenti in base a come utilizzeranno LoRa si parla poi infine dei collegamenti con l'hardware naturalmente al momento AI Core gira su hardware Google quindi sulle TPU di Google ma è già pensato per funzionare sulle capability AI di processori di Qualcomm, di Samsung e di Mediatek e quindi nei prossimi mesi poi verranno diffusi ulteriori device con queste capacità e rimanendo sull'hardware e per chiudere col discorso Gemini e tutti i nuovi annunci di Google riguardo all'AI andiamo a vedere un attimo questi nuovi Tensor Processing Unit che avevamo spoilerato all'inizio quindi TPU V5P ora all'inizio di quest'anno era stato annunciato il TPU V5E che è una versione di TPU a basso costo diciamo a basso consumo quindi ad alta efficienza invece TPU V5P è disegnato proprio per avere il massimo della potenza bruta proprio Teraflops in abbondanza quindi se volete un po' di numeri TPU V5P è capace di darvi 459 Teraflops di performance in BFloat 16 o 918 Teraops in Int 8 eh? Vi interessa sta cosa? e inoltre è supportato da 95 GB di memoria con altissima larghezza di banda per trasferire i dati a una velocità di 2,76 TB al secondo inoltre potete combinare assieme 8960 acceleratori V5P in un singolo pod utilizzando l'interconnessione proprio interchip di Google a 600 GB al secondo proprio per allenare ancora di più i modelli che vi ricordo hanno questo grosso problema di richiedere un enorme volume di passaggio di dati quindi la bandwidth ecco è una cosa che è molto richiesta per fare un confronto questa larghezza di banda è 35 volte superiore alla TPU V5E e più di 2 volte superiore al TPU V4 naturalmente tutto questo ha un costo infatti l'acceleratore ogni singolo acceleratore V5P richiederà un costo di 4 dollari e 20 all'ora che sono naturalmente più dei 3.22 richiesti per TPU V4 e degli 1.20 quindi del dollaro e 20 richiesto per V5E che vi ricordo appunto essere proprio cost efficient pensato per ottimizzare nei costi e nel consumo quindi attualmente se volete allenare un modello probabilmente la soluzione che vi conviene di più è il 5E per chiudere Google ha anche parlato del concetto di AI hyper computer perché dice oggi i computer non sono specializzati nell'AI bisogna combinare insieme vari sistemi dalla CPU alla GPU alla memoria eccetera e cercare di ottimizzare questi pezzi per lavorare bene insieme per fornire i migliori risultati anche nel AI e nel machine learning mentre invece l'hyper computer è disegnato proprio dal più basso livello per dare la maggiore efficienza possibile proprio per il training e il tuning dell'AI quindi avete introdotto anche un nuovo termine dell'informatica è il hyper computer l'AI hyper computer quindi è un mondo in cui un sistema in cui tutti i pezzi tutte le variabili dall'hardware al software sono ottimizzate per dare le massime performance possibili nell'AI con questo direi che possiamo chiudere il blocco Google Gemini spero di avervi dato una overview globale vi ricordo eccolo qua Welcome to the Gemini era il sito deepmind.google con l'ending page dedicata a Gemini quindi se vi interessa approfondire ancora di più andate qui e trovate tutto ecco allora abbiamo fatto un primo blocco molto esteso riguardo l'AI anche il secondo riguarderà l'AI però vi do poche informazioni su ogni singola cosa perché sono veramente troppe se no però è arrivata effettivamente una marea di nuovi annunci che bisogna un po' riportare il primo riguarda Meta è un nuovo tool di Meta per generare immagini che si chiama Imaging with Meta non c'è molto da dire di nuovo rispetto ad altri generatori di immagini la cosa particolare in questo caso è che Meta ha potuto allenare questo generatore con tutte le immagini di Instagram e di Facebook se andate negli Terms of Service capirete che i vostri dati sono utilizzati per allenare questo nuovo prodotto che anche come dice Ars Tecnica dà un nuovo significato al vecchio detto se non stai pagando per un prodotto allora il prodotto sei tu e qui effettivamente il prodotto sono di fatto le tue foto quindi questa è la cosa che in pratica differenzia al momento questo tool, questo software dagli altri già existenti come Mid Journey, Stable Diffusion e gli altri tra l'altro nei test che ha fatto proprio Ars Tecnica qui vedete se state guardando un prompt con un barbaro con uno schermo CRT e va bene dice anche che molte delle foto generate delle immagini generate sembrano un po' richiamare lo stile di alcuni fashion blogger ecco su Instagram questo naturalmente è un bias che si porterà dietro dato il set su cui è stato allenato però diciamo che per quanto riguarda un confronto ecco con la qualità degli altri generatori al momento non sembra competere diciamo con i migliori non sembra competere al massimo livello di Mid Journey o di Stable Diffusion diciamo che sembra medio ecco sembra abbastanza medio però insomma se vi interessa il modello alla base di questo tool nuovo di generatore di immagini si chiama EMU o EMU in base a se lo considerate come un diminutivo di emulation oppure l'animale, l'EMU c'è un paper che potete andare a leggere che vi spiega un po' meglio per come è fatto non è molto dettagliato nel capire esattamente quale immagini sono usate però naturalmente si sa che viene appunto dal database di Facebook e Instagram e questa è una differenza notevole rispetto agli altri che invece vanno a fare scraping illegale di contenuti da internet questo invece quantomeno si basa su dati che possiede che voi e noi gli abbiamo fornito gratuitamente quindi questo è comunque un cambio rispetto a quello che succede invece nel resto del mondo volete provarlo? Mi spiace, dall'Italia questa cosa non si può perché non è disponibile nel nostro paese quindi grazie Meta al momento possiamo soltanto leggere le impressioni degli altri utenti non possiamo testarlo noi direttamente e non è finita qui, ho ancora tre notizie che riguardano l'AI lo faccio però velocemente ieri AMD ha presentato nuovi chip creati proprio per competere sul mercato AI con Nvidia questa nuova famiglia si chiama MI300 e appunto Lisa Su, la CEO di AMD ci tiene proprio a far sapere che sono qui per competere con Nvidia e che addirittura li superano in potenza quindi dice che il MI300X è più potente 1.4 volte più potente di H100 che è il rivale, cioè il chip di Nvidia Competitor MI300X attualmente sarà disponibile sulle Virtual Machine di Azure e ci dice anche che MI300A sarà incluso in El Capitan che è il super computer di Hewlett Packard Enterprise quindi HPE che è negli Stati Uniti ed è uno dei super computer più potente del mondo pensato per exaflops di performance inoltre nuovi annunci sui Ryzen perché ha annunciato che ci saranno nuovi processori Ryzen per mobile chiamati Ryzen 8040 che avranno anche loro delle capability AI per i laptop e su questi si potrà usare Ryzen AI Software Platform che è ora disponibile che consentirà agli sviluppatori di lavorare con i modelli AI proprio sui laptop che includono i chip della famiglia 8040 con queste capability AI al momento ci teniamo a chiudere questo pezzo che trovo su The Verge Nvidia è quella che detiene la fetta più grande di mercato perché con le H100 c'ha tutti i datacenter di OpenAI praticamente sono quelli che vanno a allenare i modelli di GPT sorpresa sorpresa anche JetBrains lancia il proprio prodotto di AI Assistant ebbene c'è questo blog post sul blog di JetBrains appunto che lancia JetBrains AI e in pratica il tool AI Assistant quindi che cos'è? quello che vi aspettate già che faccia un AI Assistant integrato in IDE quello che avete già in VS Code con Copilot giusto per comparare una cosa che potreste già conoscere quindi con AI Assistant dentro tutti i tool gli IDE di JetBrains avete queste feature AI Chat quindi aprite la chat chiedete delle cose e avete un chatbot che vi spiega e tra l'altro Context Aware cioè lui conosce e capisce tutto il contesto della vostra applicazione perché sono informazioni che lui riesce a prendere proprio dal leader che gli fornisce l'IDE perché ha il contesto dell'applicazione poi avete la capability di refactoring quindi selezionate un codice chiedete alla AI Assistant di fare un refactor e vi suggerirà delle migliori dei miglioramenti a un pezzo di codice scritto da voi e tra l'altro vi spiegherà anche perché quello che scrive lui è meglio di quello che avete scritto voi naturalmente anche questi suggerimenti sono Context Aware che lui capisce sempre in che contesto dell'intera applicazione si trova un'altra cosa naturalmente è la code completion quello che già vi aspettate di fare cioè vi mettete in un certo punto del vostro codice aspettate un po' e l'AI Assistant vi suggerirà del codice da scrivere direttamente in place per andare avanti con il vostro codice questo già ce l'aspettavamo inoltre c'è la possibilità di scrivere documentazione quindi se vi piazzate in un punto della vostra app e chiedete al menu contestuale AI di generare documentazione lui vi scriverà un pezzettino che descrive il codice in quel punto e l'ultima cosa abbastanza curiosa è la possibilità di fargli generare dei commit message lui capirà la diff del commit che avete in quel momento sull'editor e vi suggerirà un commit message relativo proprio alla diff e questo non male devo dire a volte scrivere i commit message è un po' noioso, tedioso non tutti sanno scriverlo anzi possiamo dire che molto pochi sanno scrivere dei buoni comment message questo potrebbe aiutarci siamo curiosi naturalmente di sapere cosa usa sotto il cofano JetBrains per darci queste feature AI purtroppo non c'è nessuna sorpresa utilizza sempre OpenAI è proprio tutto questo AI Assistant è powered by OpenAI però JetBrains ci tiene anche a dire che quello che loro hanno fatto è vendor agnostic cioè potenzialmente possono cambiare modello sottostante andare verso un altro vendor e infatti stanno già lavorando per integrarsi con i large language model di Google quindi potenzialmente vedremo in futuro la possibilità di cambiare vendor a seconda di non lo so esigenze diverse oppure prodotti diversi di JetBrains costi diversi dell'API non lo so in ogni caso tutto questo ben di dio è disponibile dalle versioni 2023.3 di tutti gli leader di JetBrains ha un costo supplementare rispetto alla licenza base che vi consente di usare i prodotti è una subscription definita JetBrains AI tra l'altro è ancora experimental non è disponibile in tutti i paesi io non ho controllato se è disponibile in Italia perché sono pigro ma insomma se siete tra gli utenti JetBrains potete già controllare se il vostro editor può essere aumentato con queste funzionalità pagando naturalmente una fee aggiuntiva in ultimo vi giuro per l'elenco delle news AI di oggi citiamo anche Apple perché anche Apple si è unita alla festa e apprendiamo che Apple appunto ha rilasciato un framework per lavorare con il machine learning questo framework si chiama MLX ed è ispirato, secondo quanto dice Apple stessa a framework come PyTorch, Jaxx e ArrayFire quindi è pensato per consentire ai sviluppatori di lavorare in modo semplice ed efficace con dei modelli come LAMA o Stable Diffusion e inoltre per il data loading c'è MLX Data che è un pacchetto appunto framework agnostic che lavora con MLX, con PyTorch o con Jaxx tutte queste cose naturalmente sono certo nel calderone dell'AI ma in particolare sono rivolte al machine learning non tanto all'AI generativa infatti in tutti i comunicati in cui Apple ne parla non menziona quasi mai la parola AI sta molto attenta in questo quindi insomma vedete che Apple entra ufficialmente in questo gioco ma con un approccio ancora un po' conservativo non nominiamo l'AI, nominiamo il machine learning insomma buttiamo dentro anche questa e vediamo dove ci porterà in ultimo come ormai ho preso questa tradizione di darvi qualche link infine di puntata che potrebbe essere interessante sempre a tema no a volte a tema a volte no in questo caso a tema perché vi segnalo un articolo su The New Stack si chiama Decoding Amazon Generative AI Strategy vi ricordate la scorsa settimana che Amazon ha tenuto il reinvent e ha annunciato un po' di prodotti un po' di servizi relativi all'AI da Q a altre cose di cui abbiamo parlato un pochino meno e insomma su The New Stack trovate un articolo che in modo abbastanza approfondito va a fare una panoramica di quello che Amazon appunto ha presentato e tira un po' le somme fa un po' di considerazioni sulla strategia appunto che Amazon sta seguendo in riguardo appunto all'AI generativa se siete interessati vi consiglio davvero a vedere e inoltre vi segnalo un report che è apparso sul sito di cnvrg.io un nome assolutamente complicatissimo fondamentalmente è una compagnia che offre sempre dei servizi sulla AI che è posseduta da Intel quindi fa parte del gruppo Intel ebbene in questo rapporto che possiamo chiamare in pratica The State of AI quindi è un survey fatto con diverse aziende per capire un po' qual è lo stato dell'AI generativa oggi quindi viene fuori che certo c'è molto hype intorno all'AI generativa ma in realtà le aziende che hanno deployato davvero dei prodotti che lo usano sono molto poche è circa il 10% delle aziende consultate quindi nonostante ci sia appunto tutto questo hype intorno al topic però i prodotti veri cioè chi sta davvero usando questa roba nel mercato sono pochi sono pochi player quindi potrebbe essere interessante andare a vedere un po' tutti i risultati di questo report e ve lo segnalo il titolo del post lo trovate si chiama The State of Generative AI and Machine Learning at the End of 2023 e abbiamo finito grazie per avermi seguito anche oggi domani naturalmente non ci sarò perché è festona quindi vi do appuntamento alla prossima settimana non so se sarà l'ultima dell'anno però insomma ormai ci stiamo avvicinando alla chiusura quindi ci sentiamo prossimamente fate bravi fate un buon weekend lungo mangiate tanto ma responsabilmente e noi ci risentiamo a breve ciao ciao